Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Come dal titolo, svolgerò qualche esercizio di chimica. Queste esercitazioni vengono svolte a Politecnico di Milano per il corso di Ingegneria Fisica. Allora, innanzitutto, per chi volesse delle ripetizioni online, mi contatti pure su Instagram o anche tramite mail. Iniziamo subito. Allora, il primo esercizio dice L'analisi elementare di un composto rivela la seguente composizione. Con queste percentuali, dalla massa molecolare di questo composto, che è 180 grammi su mol, la domanda è determinare la formula molecolare. Allora, ipotizziamo che la massa di questo composto sia pari a 100 grammi, affinché ci possa risultare facile individuare la massa, in corrispondenza della corrispettiva percentuale, di ogni singolo elemento. Quindi avremmo una massa del carbonio pari a 40,01 grammi, massa dell'idrogeno pari a 6,69 grammi, massa dell'ossigeno 53,30 grammi. Nessuno vieta che uno possa mettere un valore diverso da 100, ovviamente poi si andrebbero a vedere percentuali diverse, per comodità uno sceglie 100. Le corrispettive masse molecolari, quindi del carbonio, è 12 grammi su mol, dell'idrogeno è uguale a 1 grammo su mol, invece dell'ossigeno è 16. Questi sono dati che si trovano sulla tavola periodica. Di conseguenza si va a calcolare il numero di moli, cioè la quantità di sostanza di ogni elemento, quindi il numero di moli del carbonio sarà massa del carbonio fratto la massa molecolare del carbonio, quindi sarebbe 40,01 grammi fratto 12 grammi su mol, grammo a grammo va via, e qua si ottiene 3,33 mol. Analogo per l'idrogeno e per l'ossigeno, di cui do già solo i risultati, facendo gli stessi identici conti. Ok, successivamente cosa abbiamo? Abbiamo tre elementi. È un composto ternario, di conseguenza lo scriviamo come CHO, CX HY OZ, dove X sarebbe questo, Y questo e Z questo. Cosa si fa in questo caso? Per andare a trovare il pedice, diciamo così, la quantità di elementi di cui ho formato questo composto, si va a dividere il numero di moli più grande per il più piccolo. In questo caso abbiamo parità tra quello del carbonio e quello dell'ossigeno, ma fa niente, andiamo a vedere, a fare NH dell'idrogeno fratto N, ad esempio, del carbonio, cioè 6,69 diviso 3,33, che è all'incirca 2. Successivamente faremmo N dell'ossigeno fratto N carbonio, cioè 3,33 fratto 3,33, cioè pari a 1. Da questo abbiamo una formula chimica, scusatemi, formula minima, e questa formula minima sarà del tipo C1, H2 o 1. Adesso andiamo a vedere un attimino qual è la massa molecolare di C1, H2 o 1. In questo caso è 30 grammi su mol. Di conseguenza andiamo a vedere il nostro fattore F, chiamiamolo così, una variabile qualunque, e una lettera qualunque, tale per cui dividiamo la massa molecolare che ci viene data dal problema 180 fratto quella ottenuta dalla formula minima, cioè 30. Quindi 180 diviso 30 che fa 6. Di conseguenza finale questa F va a moltiplicare i singoli pedici per ottenere poi successivamente la formula chimica, cioè C6, H12, O6. Questa è la formula chimica molecolare. Questa è la risposta dell'esercizio. Il secondo esercizio ci dice un contenitore quasi vuoto presenta una pressione di 0.1 atmosfere, scritto qua atmosfere, alla temperatura di 25 gradi Celsius. Quale sarebbe la pressione all'interno del contenitore se lo soggettassi in un incenitore che ne elevasse la T fino a 1300 gradi Celsius? Allora, questo è un esercizio di termochimica, gli inizi proprio, quindi applicare le due di Charles, Gellussac e Boyle. Quindi in questo caso siamo nel caso in cui il volume sia costante, quindi abbiamo come temperatura finale 1300 gradi Celsius che sarà in Kelvin 1573 Kelvin circa. La pressione iniziale P0, io la chiamo, ma è indifferente, è 1,01 atmosfere e la temperatura iniziale è 98... Eh no, 298 gradi Kelvin. Ecco, mi stavo confondendo un attimo. Ok, successivamente andiamo ad applicare la regola, cioè si applica PV uguale NRT, questo passaggio è ovviamente fondamentale, la legge dei gas ideali, dove costanti sono il numero di moli e la costante dei gas. Quindi abbiamo il rapporto P fratto T uguale a una costante, di cui ricaviamo la formula P0 fratto T0, scusate, uguale a PF fratto TF. Di conseguenza si va a calcolare PF da formula inversa e viene come risultato 3,33 atmosfere. Molto semplice. Il secondo esercizio ci dice una bombola di 30 litri di argon in fase gassosa viene collegata ad un contenitore di 2000 litri di volume in cui è stato fatto il vuoto. Se la pressione finale è pari a 450 millimetri di mercurio, qual'era la pressione originale del gas considerando che la temperatura viene mantenuta costante, quindi qua bonus abbiamo che la temperatura è costante, legge di Boyle. Innanzitutto poi abbiamo la pressione finale che è 450 millimetri di mercurio che è uguale identicamente a 450 torricelli, è la stessa identica cosa, e questo corrisponderà a 0,592 atmosfere sapendo la conversione che un'atmosfera equivale a 760 torricelli. Il volume dell'argon è uguale a 30 litri e il volume del contenitore è uguale a 2000 litri. Ora, nel momento in cui ne applichiamo la legge di Boyle, quindi PV uguale a costante, cioè PV0 uguale a PFVF, il volume iniziale è quello dell'argon. Il volume finale corrisponde al volume dell'argon più il volume del contenitore. Questo è fondamentale e poi da lì semplicemente si va a calcolare PI che sarà uguale a PFVF fratto VI. Quindi facendo tutti i conti torna 40 atmosfere, perché lasciamo in atmosfera. Se ad esempio si chiedesse anche un grafico che rappresentasse questo andamento, ovviamente è un'iperbole, in un grafico ovviamente PV. dalla legge di Boyle, altrimenti si vede molto nello specifico da questa formula che il legame tra P e V è inversamente proporzionale, quindi di conseguenza si è un'iperbole. L'ultimo esercizio ci dice che un neumatico di un'automobile è riempito con aria alla pressione di P2 atmosfere e temperatura a 20 gradi. Viaggiando lo neumatico si riscalda fino a 60 gradi con un aumento del volume del 4%, a calcolare la nuova pressione ammettendo che non ci siano perdite. Questo, ammettendo che non ci siano perdite, significa che non esiste perdita di massa. Noi la perdita di massa nella termochimica lo vediamo come n uguale a costante. Quindi il fatto che PV uguale a nRT sia costante e solo n ed R sia costante ci dice che PV fratto T tutto è una costante. E allora avremmo questa relazione qua che mette insieme gli stati iniziali e finali delle nostre tre grandezze fisiche principali dell'ossidio dei gas ideali. Allora, ovviamente T con 0 è 20 gradi Celsius e viene trasformato in Kelvin come 60 gradi Celsius viene trasformato in Kelvin assolutamente da fare. I più 0 viene può essere rimasto cioè lo puoi lasciare così questa è l'incognita V0 e V finale è V0 più il 4% di V0 ancora. Quindi ovviamente V finale sarà V0 più 0,004V0 cioè 1,004V0 nella mente 1 in cui va a trovarsi la formula inversa PF che sarà uguale a TF fratto VF V0 P0 fratto T0 sto andando a sostituire tutti i calcoli e si ottiene 2,2 atmosfere perché ovviamente il V0 che è un valore ignoto si va a semplificare col VF che lo mette in funzione del V0 così semplifica rimane solo un singolo numero per qualsiasi curiosità qualsiasi dubbio fatelo pure sapere nei commenti grazie a tutti